Capitolo 8 Lisa è malata La mattina dopo, aspettando Papel Pavlovich, che aveva promesso ad essere puntuale per andare dai Pogorielicev, Vecaninov cominciò a passeggiare per la camera, prese il caffè, fumò e pensò. Ad ogni momento si faceva l'effetto di un uomo che, svegliandosi, si ricorda che il giorno prima ha ricevuto uno schiaffo. Mmm, sa benissimo come stanno le cose. E vuole vendicarsi di me servendosi di Lisa. Pensava che aveva paura. L'immagine delicata e triste della bambina sorgeva davanti a lui. Il cuore gli batteva, pensando che dopo due ore avrebbe visto la sua Lisa. Non c'è dubbio, concluse con entusiasmo. L'ora in poi è là tutta la mia vita, tutto il mio ideale. Che mi importa di tutti gli schiaffi e di tutti i ritorni del passato? Ma che cosa è servita la mia vita fino ad oggi? Disordini, dolori. Ma ora tutto è cambiato. Ora è un'altra cosa. In contrasto alla sua esaltazione, le preoccupazioni lo primevano sempre più. Si vendicherà di me con Lisa, è chiaro? Si vendicherà con Lisa? E' con lei che mi colpirà. Certo, io non tollererò più gli affronti di ieri. Era sì a quel ricordo. Ma non arriva ancora, ed è mezzogiorno. Aspettò fino a mezzogiorno e mezzo, e Pavel Pavlovich non giungeva ancora. Poi, l'idea che se non veniva era soltanto per aggravare ancora le offese del giorno prima. Quest'idea gli tornava sempre in mente. Si impadronì completamente di lui e lo sconvolse. Sa chi me tiene in pugno. Come posso presentarmi a Lisa senza di lui? Non potendo più resistere, a luna si fece condurre in fretta a Bokrov. Gli dissero che Pavel Pavlovich non aveva dormito in casa, che era rientrato la mattina alle nove, che non si era fermato più di un quarto d'ora ed era uscito di nuovo. Velchaninov ascoltava le spiegazioni della domestica, fermo davanti alla porta di Pavel Pavlovich, della quale machinalmente tormentava la maniglia. Quando la donna ebbe finito, sputò, se ne andò, e si fece condurre da Maria Sisoyevna. Costei, avendo saputo che egli era là, gli accorreva nello stesso momento. Era una donna buonissima, una donna dai sentimenti molto generosi, come diceva Velchaninov in seguito quando raccontava a Claudia Petrovna la sua conversazione con lei. Subito dopo avergli chiesto notizia della bimba, ella cominciò a cicalare sul conto di Pavel Pavlovich. Diceva che se non fosse stato per la bambina, l'avrebbe mandato a spasso da molto tempo. L'avevano già mandato dall'albergo nel padiglione per la sua vita disordinata. E' un delitto portare a casa delle ragazze quando c'è una bimba in età in cui capisce. E lui gridava ancora. Guarda, sarà lei tua madre quando io vorrò. Figuratevi che la donna che aveva condotta a casa si ha lei stessa sputato in faccia per il disgusto. E lei diceva altre volte. Se non sei mia figlia, sei una bastarda. Come? Diceva Velsaninov spaventato. Ho sentito con le mie orecchie. E' un ubriaco che non sa quello che dice, è vero. Ma certe cose non si dovrebbero dire davanti a una bambina. Ha un bell'essere piccola. Queste cose le entrano in testa e poi vi restano. La piccola piange, soffre, si vede bene. Qualche giorno dietro è accaduta qui una disgrazia. Un signore, un commissario, dicevano, aveva affittata una camera la sera. La mattina del giorno dopo sarà impiccato. Hanno detto che aveva perduto al gioco. Accorse molta gente. Pavel Pavlovich non era in casa. La piccola, non sorvegliata, esce. Io andando nel corridoio la vedo in mezzo alla gente che guarda con aria strana l'impiccato. La portai via. Subito. Immaginatevi che appena rientrata si mise a tremare per la febbre. Diventò tutta nera e cade a terra stecchita. Le fece dei massaggi. La battei nelle mani e riuscii con fatica a farla rinvenire. Quando il padre l'incasò e seppe la cosa cominciò a pizzicarla. Pensate che preferisce pizzicarla anziché picchiarla. Poi si verso un gran bicchiere di vino e le dice per spaventarla. Anch'io mi impiccherò. Per causa tua mi impiccherò. Guarda, mi impiccherò con questa corda. e vi fece un nodo davanti a lei. Allora la piccina ha perso la testa. Si è gettata su di lui. Si è aggrappata a lui con le manine, gridando, non lo farò più, non lo farò più! Che pena! Belcianinov si aspettava di udire altre cose strane. Ma questo racconto lo costannò così forte che non poteva credere che fosse vero. Maria Sisoyevna gli raccontò altre cose ancora. Per esempio, una volta, se non ci fosse stata lei, forse Elisa si sarebbe gettata dalla finestra. Quando lasciò Maria Sisoyevna, era come ubriaco. Lo ammazzerò come un cane. Con una bastonata in testa, si ripeteva. Presse una carrozza e si fece condurre dai Pogorielicef. Prima di arrivare fuori di città, la carrozza si dovette arrestare a un crocevia, vicino a un ponticello sul quale sfilava un funerale. L'ingresso del portone era ingombrato da carrozze che aspettavano e una folla compatta era là che guardava. Il funerale era ricco, la fila delle carrozze era lunga. Improvvisamente, in una di quelle carrozze, Belcianinov vide apparire la figura di Pavel Pavlovich. Non avrebbe creduto ai suoi occhi se l'altro non si fosse esporto dal finestrino e non lo avesse salutato con la mano sorridendo. Evidentemente, era contento dell'incontro. Belcianinov saltò a terra e, malgrado la folla e le guardie, raggiunse il finestrino della carrozza che cominciava a attraversare il ponte. Pavel Pavlovich era solo. «Perché non siete venuto?» gridò Belcianinov. «Perché siete qui?» «Rendo l'estremo omaggio!» «Non gridate, non gridate!» «Rendo l'estremo omaggio!» disse Pavel Pavlovich con un allegro strizzardocchi. «Accompagno la spoglia mortale del mio eccellente amico, Stepan Mikhailovic. Ma questa è una buffonata, stupido di un ubriacone!» grida forte Belcianinov. «Andiamo, venite subito con me!» «Impossibile! È un dovere!» «Vi porterò via per forza!» urlò Belcianinov. «E io griderò!» griderò, disse Pavel Pavlovich con lo stesso ridere allegro come se il gioco lo divertisse accompacciandosi in un angolo della carrozza. «Attento, attento! Vi schiacciano!» gridò un agente. Infatti una carrozza arrivava sul ponte con gran fracasso risalendo il corteo. Belcianinov dovete saltare da un lato. Altre carrozze e la folla lo cacciarono più lontano. Indispettito tornò nella sua carrozza. «È lo stesso! Ad ogni modo non avrei potuto condurlo in quello stato!» pensava inquieto e disperato. Quando ebbe raccontato a Claudia Petrovna le storie di Maria Sisoyevna e lo strano incontro al funerale ella rimase pensierosa. «Ho paura per voi!» gli disse. «Cercate di rompere il più presto possibile ogni rapporto con quell'uomo!» «È un ubriaco e un buffone! Ecco tutto!» disse Belcianinov con ira. «Volete che io abbia paura di lui?» «E quando potrei rompere ogni relazione quando c'è di mezzo Lisa?» Lisa era a letto molto malata. La sera del giorno precedente le era venuta la febbre ed aspettavano un medico molto reputato che avevano mandato a chiamare in città la mattina prestissimo. Belcianinov ne fu completamente sbigottito. Claudia Petrovna lo condusse dalla malata. «L'ho osservata ieri molto attentamente» gli disse prima di entrare. «È fiera e triste. Si vergogna d'essere qui abbandonata da suo padre. Secondo me è questa la sua malattia». «Come? abbandonata? Perché pensate che l'abbia abbandonata? Oh, il solo fatto che l'abbia lasciata venire qui in casa di sconosciuti con un uomo quasi unquelmente sconosciuto almeno. Ma sono stato io che l'ho presa. Ho dovuto prendergli per forza. Non vedo... Mio Dio non si tratta di me ma di Lisa che è una bimba e che vede così le cose. Per conto mio sono sicura che lui non verrà mai qui. Quando vide che Velcianinov era andato solo Lisa non ne fu stupita. Sorrise tristemente e volse verso il muro la sua testina arsa di febbre. Non rispose niente né alle timide consolazioni né alle calde promesse di Velcianinov che si impegnava di condurle il padre il giorno dopo. Quando l'ebbe lasciata scoppiò in lacrime. Il medico non arrivò che verso sera. Dopo che l'ebbe visitata spaventò tutti dicendo che avrebbero dovuto chiamarlo prima e quando gli dissero che aveva cominciato a star male solo la sera prima non lo volle credere. Tutto dipende da come passerà la notte concluse. Scrisse la ricetta e partì promettendo di tornare lì domani il più presto possibile. Velcianinov voleva assolutamente rimanere tutta la notte ma Klaudia Petrovna lo supplicò di fare un altro tentativo per condurre quel brutto. Questa volta disse Velcianinov agitato questa volta verrà quando anche dovessi legarlo e portarlo. L'idea di portarlo legato come un bagaglio si impossessò di lui fino ad ossessionarlo. Adesso è finita io non mi sento più colpevole verso di lui disse a Klaudia Petrovna congedandosi rinnego tutte le mie miserie sentimentali e tutti i miei pianistei di ieri. Lisa stava colicata con gli occhi chiusi e pareva dormisse. Sembrava che stesse meglio quando Velcianinov le si avvicinò con precauzione per darle prima di partire un bacio discreto su qualcosa di lei non fosse che l'orlo della sua camicia e la improvvisamente aprì gli occhi come se lo avesse aspettato e gli disse sotto voce portatemi via. Era una preghiera dolce e triste dove non rimaneva niente dell'irritazione esaltata del giorno prima ma nella quale si sentiva quasi la rassegnazione la certezza che la preghiera non sarebbe stata esaudita. Quando Velcianinov cominciò a spiegarle che era impossibile chiuse gli occhi e non disse più niente come se non lo sentisse e non lo vedesse. Quando rientrò in città si fece subito condurre a Pokroff. Pavel Pavlovich non era in casa erano le dieci Velcianinov lo aspettò per una mezz'ora andandosi giù per il corridoio in uno stato di impazienza dolorosa. Maria Sisoyevna finì per fargli capire che Pavel Pavlovich molto probabilmente non sarebbe tornato che la mattina del giorno dopo. Allora tornerò a mezzogiorno e se ne tornò a casa. Fu stupito quando Mavra gli disse che il forestiero del giorno prima era là e lo aspettava dalle dieci. Ha bevuto il tè qui poi ha fatto comprare del vino come quello di ieri e mi ha regalato un biglietto da cinque rubli. Grazie. 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 Grazie.